Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sempre qui in diretta da Brno, dalle sale del Vodicentrum Casinò. Siamo in diretta dal tavolo finale, come vedete 4 giocatori left e purtroppo abbiamo appena perso anche il sommo in quinta posizione, ultimo livello in gara. Abbiamo ancora Puglia, che vedete ha ancora intento di gestare il proprio stack dopo il raddoppio ai danni di Apicella. Marco, il giocatore sloveno, che in questo momento si trova in una posizione abbastanza scomola in quanto è il più short. Qui abbiamo Marco Apicella invece che dovrebbe essere attualmente secondo un chip dopo aver perso un grosso piatto contro appunto Puglia. E l'ultimo è invece Meissner che dovrebbe appiazzarsi in terza posizione subito dietro ai due azzurri. Noi ci diamo appuntamento per i prossimi aggiornamenti della sala e per le mani che vi verranno postate fino alla fine in diretta sul nostro forum, sempre pocketitagliaware.org e sempre Final Table. Qui salutiamo anche il presentatore di Poker Show TV che ci ha tenuto a compagnia durante tutto il Final Table facendo la telecronaca. Qui invece salutiamo la cameriera. Grazie. 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 Grazie.